momenti davvero da terrore, da paura in un volo che c'è stato ieri sulla Ryanair che da Ibiza in Spagna porta a Orio al Serio, ci troviamo in Italia, provincia di Bergamo infatti pensate all'interno dell'aereo ci sarebbe stata una forte lite violenta di una donna con altri passeggeri, altri diversi passeggeri a bordo dello stesso velivolo in questione. Il video è diventato virale sul web, tutto sarebbe iniziato all'imbarco per colpa di un mancato rispetto di distanziamento tra persone da parte della protagonista di tale vicenda. Decollato l'aereo la donna quindi avrebbe cominciato a andare letteralmente in escandescenza se la sarebbe presa dapprima con una passeggera, quella che l'avrebbe accusata di non aver tenuto la distanza di sicurezza e poi addirittura con gli steward fino a realizzare tra virgolette un duello di natura fisica ma anche verbale con le persone che cercavano in tutti i modi di andarla a scalmare, a sedare. Tutto con la mascherina che praticamente era calata. Il video appunto è un video cristallino dove si vede questa ragazza che avrebbe insultato una passeggera, l'avrebbe tirato i capelli, si sarebbe dimenata e addirittura avrebbe sputato. Parole forti sarebbero, diciamo così, volate. Non vi aggiungo altro, il video ripeto che è possibile vederlo barra visualizzarlo sul web, andatevela a cercare e ditemi che cosa ne pensate. L'Aleandro, il narratore italiano di Roma è tutto, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, ciao e al prossimo video.